Nascondeva la droga nell'intestino, 13 in volo crincello fan contenenti eroina da circa 15 grammi ciascuno per un totale di 200 grammi di droga purissima. L'uomo, un nigeriano di 24 anni, era appena sceso dal treno alla stazione ferroviaria di Fano in compagnia di un connazionale. Reduci da un arresto analogo avvenuto nei giorni precedenti, gli agenti della polizia conoscevano benissimo il nuovo metodo utilizzato dagli spacciatori per trasportare la droga. Così hanno fermato il giovane che aveva atteggiamenti sospetti ed era in evidente stato di agitazione e lo hanno invitato a seguirle al pronto soccorso per essere sottoposto a una radiografia. Capendo di non poter sfuggire all'esame, l'uomo ha deciso di arrendersi e confessare subito. Con un goccio di latte caldo ha evacuato gli ovetti ed è stato arrestato. Il 24enne si trova ora nel carcere di Villa Fastigi, mentre l'amico è stato denunciato a piede libero. La sostanza stupefacente che frutta dai 50 agli 80 euro al grammo invece era destinata alla piazza fanese, in particolare agli assuntori con età che varie dai 16 ai 50 anni e di diversa estrazione sociale. Numerosi sono stati controlli proprio effettuati sulla città di Fano, in punti proprio specifici, considerati più a rischio, effettuando proprio delle analisi sul territorio. A questo punto di vista viene poi impiegato numeroso personale sia in divisa che in borghese. Poi c'è l'intuito veramente forte e molto importante degli investigatori del commissariato di Fano. In questo caso appunto alla stazione sono state fermate numerose persone, tra questi alcuni stranieri di nazionalità nigeriana e sullo scorto anche di informazioni che erano state, diciamo, di dati che erano stati acquisiti anche giorni precedenti sull'esperienza, quindi di un arresto effettuato pochi giorni prima sempre a carico di un nigeriano che aveva all'interno proprio del proprio corpo, nell'intestino delle dosi di eroina. E' sempre la polizia di Fano guidata da Stefano Seretti, arrestato un 23enne fanese originario della campagna, incensurato e disoccupato, che aveva appena venduto 20 grammi tra ascisce e marijuana ad un cliente. Il tutto è accaduto all'interno di una vettura ferma in un parcheggio in zona Lido, luogo prediletto insieme all'Arzilla per svolgere l'attività illecita. Il cliente è stato rilasciato, mentre il pusher, trovato anche con una banconota in mano, provento dello spaccio, è stato arrestato in flagranza di reato. Dopo la convalida è tornato in libertà. In stazione verranno anche installate delle telecamere di videosorveglianza a breve? Sì, verranno installate delle telecamere di videosorveglianza, le quali sicuramente saranno utili anche per noi, per le forze di polizia, per la polizia e i carabinieri, quindi per effettuare ulteriori controlli anche ai fini investigativi soprattutto.